150 atleti da oltre 30 nazioni con i primi 25 della classifica mondiale di parapendio e volo libero per una festa colorata ed elettrizzante nel blu dipinto di blu fra la pedemontana e il cielo. Gran finale lunedì per il trofeo Monte Grappa, un appuntamento diventato ormai una tradizione con più di 30 edizioni alle spalle. Ospitare questa edizione il comune di Borso del Grappa da sempre patria del volo libero e quello di Romano Dezzelino con l'atterraggio ufficiale e il centro operativo. I circuiti di gara hanno attraversato un ampio territorio tra le province di Treviso e Vicenza con splendide partenze dall'altopiano dei sette comuni e dal Grappa.